In questo inizio di campagna elettorale sto imparando tante cose. Imparo a stare tra la gente, a capire i loro problemi e i problemi reali della Valle d'Aosta. Credo che la politica debba cambiare il registro, debba diventare la politica dei fatti e non delle parole, la politica delle verità e non delle falsità e soprattutto la politica delle promesse mantenute. Se sarò eletto, questo sarà il mio motto. Lo porterò con me per tutte le sfide che farò per la Valle d'Aosta e i Valdostani.